Prosegue la raccolta firme CGL, proposta di legge di iniziativa popolare Carte dei diritti universali dei lavori sui tre referendum, sui voucher, sui licenziamenti e sugli appalti. No al modello bel piano immigrazione secondo Anci Liguria, a Bolzonasca ce ne potrebbero stare 10-15, non di più. Mercato del pesce, polemica, stesse avanti non si placa a quello che è diventato un vero e proprio caso politico. Due giorni dedicati all'olio e al vino, mare mosto, domani e dopodomani a Sesti Levante. Superare i limiti, ieri sera incontro organizzato dalle associazioni Virtus et Probitas e Stella Polare, protagonista Nicola Pagliettini. Aiutiamo Nicola su un bambino di 9 anni che trascorre buona parte della sua vita con il papà Calvary ha bisogno d'aiuto. Per i trovati dal TG Tiguglio apriamo con la CGL perché come ricorderete le 136 assemblee di consultazione promosse dal sindacato sulla carta dei diritti universali del lavoro che si sono svolte tra il Tiguglio e il Golfo Paradiso hanno visto la partecipazione al voto di 2785 iscritti con oltre il 99% di voti favorevoli. È stato approvato il testo di quella che sarà la proposta di legge sulla quale è iniziata una raccolta di firme in tutta Italia. Nello stesso tempo sono raccolte in questi giorni le firme anche per tre quesiti referendari. Vediamo. Stiamo raccogliendo firme per una proposta di legge di iniziativa popolare e per tre referendum abblogativi. La proposta di legge di iniziativa popolare si basa su una revisione complessiva delle norme che regolamentano il mercato e il rapporto di lavoro per aumentare le tutele anche a molte categorie di lavoratori e lavoratrici che negli ultimi anni sono notevolmente aumentate e ad oggi non hanno tutele. Pensiamo alle collaborazioni, pensiamo al lavoro a chiamata, pensiamo ai voucher, tutte categorie che non hanno una copertura di tutele come altre finora, anche se a fatica, hanno avuto. Contestualmente stiamo raccogliendo firme su tre referendum abblogativi. Il primo riguarda i voucher perché ormai è uno strumento che è totalmente degenerato e sta diventando come supplenza del lavoro nero, praticamente grazie all'uso indiscriminato che ne viene fatto senza nessuna regola e senza nessuna tutela. Il secondo referendum abblogativo riguarda le norme sui licenziamenti, quindi in modo da ripristinare il reintegro che è sempre valso come deterrente al di là del rimborso economico dato in caso di reintegro, ovvero sia di riassunzione in caso di licenziamenti ingiusti. Il terzo referendum abblogativo riguarda le norme sui appalti ed è altrettanto importante perché prevede il ripristino e consolidamento di norme che garantiscano la tutela e mantenimento del posto di lavoro per quelle lavoratrici e lavoratori che lavorando negli appalti passano spesso da un gestore all'altro e ad oggi purtroppo c'è il rischio frequentemente che perdano il posto di lavoro, quindi chiediamo di mantenere il posto di lavoro per chi già sta lavorando negli appalti. Sostanzialmente si tratta di un insieme di proposte e di norme che mettono il lavoro e l'individuo all'attenzione, al centro dell'attenzione perché ultimamente il lavoro è diventato sempre più merce e la figura del lavoratore o della lavoratrice, ovvero sia chi vive del proprio lavoro e contribuisce col proprio lavoro anche allo sviluppo del paese è una figura che è venuta sempre meno. Si è dato prevalenza, spazio a forme improprie e inappropriate di lavoro svilendo la dignità e la figura della lavoratrice e del lavoratore. Tutto questo noi cerchiamo di migliorarlo attraverso questa raccolta firme e la proposta di legge che faremo in Parlamento e i referendum abrogativi qualora raggiungeremo il quorum. E la Corte di Giustizia Europea su iniziativa della CCL e dell'Inca si è pronunciata lo scorso settembre con una sentenza che ha stabilito che l'ulteriore contributo che grava sugli immigrati in occasione della richiesta e rinnova del permesso di soggiorno è sproporzionato rispetto alle finalità perseguite dalle direttive dell'Unione Europea in materia. L'Inca ha già iniziato le procedure per richiedere il rimborso delle somme versate dal 2012 ad oggi e di quelle che ancora oggi vengono richieste in occasione di rinnovare e rilasci dei permessi di soggiorno. Presso la sede della CGL di Chiaveri attiva uno sportello dedicato il martedì dalle 15 alle 18 e il giovedì dalle 9 a mezzogiorno che riceve il suo appuntamento. Attualmente il servizio è riservato agli iscritti ma successivamente sarà esteso a tutti. Nel Danne Notizia il responsabile della CGL Tiguglio Golfo Paradiso Domenico del Favaro che abbiamo visto nel servizio precedente attacca il governo per la recente decisione di aumentare il costo del permesso di soggiorno elettronico. E parlavamo appunto di stranieri con il permesso di soggiorno parliamo di immigrazione perché il modello Belpiano non piace a Danci Liguria. Belpiano per quanto riguarda le modalità di accoglienza dei migranti non piace ai sindaci d'Italia. Nel centro del comune di Borzonasca si trovano attualmente più di 140 stranieri in attesa di permesso di soggiorno collocazione. Sulla base delle previsioni l'emergenza non sarà in termini strettamente numerici ma può diventare un'emergenza se si proseguirà con modalità di gestione insostenibili come è successo a Borzonasca e a Ventimiglia. Ha affermato Paolo Pezzana, sindaco di Soria e coordinatore per l'immigrazione di Anci Liguria. Sarà emergenza dove l'accoglienza non venga praticata in modo diffuso e con numeri piccoli. Anci Liguria ha presentato una proposta accolta da quella nazionale che la trasmetterà al governo di Roma. Si chiede che le prefetture esortino gli enti gestori ad affittare a mercato alloggi da 6-10 persone in tutti i comuni della Liguria, evitando concentrazioni superiori allo 0,2-0,4% della popolazione in ciascuno di loro e che si adoperino per ridurre quanto prima le concentrazioni sostenibili di profughi sui territori che oggi sono sovraccarichi. In questo quadro si dice che a bel piano non devono essere ospitati più di 10-15 profughi. Cambiamo argomento. La manutenzione dei propri sentieri collinari è un vanto per il comune di Santa Margherita Ligure, lo dice la stessa amministrazione a seguito del dibattito sul tema che si è tenuto nell'ultimo consiglio comunale con proiezioni di oltre 200 foto scattate il 25 aprile lungo salita Banchi, via Pero, via Tripoli, via Pino, via Tre Scalini, salita Montebello e molte altre. L'amministrazione comunale di Paolo Donadoni ha chiesto alla cooperativa che esegue il servizio di pulizia un impegno specifico in materia. Ringrazio i lavoratori della cooperativa sociale per il lavoro svolto quotidianamente su tutto il territorio cittadino, ha spiegato il vice sindaco di Santa Margherita Ligure Emanuele Cozzio ai 29 chilometri ordinari di interventi sulle Creuse. Ne sono stati aggiunti ulteriori 25 chilometri circa con risultati molto positivi, tanto che a seguito della proiezione delle foto circa lo stato reale delle Creuse ci sono stati addirittura i complimenti anche da parte dei consiglieri di minoranza dell'ultimo consiglio comunale. E adesso ci spostiamo a Sesti davanti perché l'oraio del mercato del pesce a Sesti prosegue la polemica, addirittura ieri se ne è parlata anche al Tg5. Un ordine del giorno da discutere in consiglio regionale presentato da Andrea Costa è una mozione per il consiglio comunale depositato da Marco Conti e entrambi del nuovo centrodestra. La polemica è quella relativa alla vendita diretta delle acciughe e del resto del pescato. Il punto è l'orario di prima vendita del pesce di giornata, quello realizzato con finanziamento regionale dieci anni fa in prossimità dell'area portuale. I pescatori possono vendervi direttamente soltanto dalle 7.30 alle 9.30 e la commissione consultiva regionale ha già invitato il comune di Sesti di Levante a rivedere questo orario concordandone uno più esteso con gli stessi pescatori. Non è questa però la posizione dell'amministrazione comunale di Valentina Ghio che vuole considerare anche la posizione delle pescherie presenti in città dove si lamenta che con l'assenza di intermediari e di un affitto da pagare al punto vendita si possa già esercitare un prezzo migliore. È un falso problema quella della concorrenza, le poche pescherie rimaste anche perché il punto di prima vendita del mercato del pesce vende il prodotto appena pescato quindi non pulito e deve sottostare ad un limite quantitativo giornaliero affermano costa e conti. Piuttosto è la grande distribuzione con all'interno il banco del pesce fresco a fare concorrenza alla vendita al dettaglio. Torna a Santa Margherita Ligore il busso gratuito per portare i turisti e residenti al mare sarà in funzione negli ultimi tre weekend di maggio in tutti quelli di giugno tutti i giorni a luglio e agosto e nei primi due weekend di settembre. Il mezzo di ATP effettuerà un servizio circolare ogni mezz'ora dalle 9 alle 12.30 dalle 14.30 alle 18 tra il parcheggio dello stadio Broccadi e il covo di nord-est sarà collegata anche la frazione di San Lorenzo della costa e l'orario prevede coincidenze specifiche per il quartiere degli Olivi. Nell'estate del 2017 inoltre grazie ad un accordo tra il comune di Santa Margherita Ligore e ATP ci sarà anche una corriera in più che collegherà la stazione di Santa Margherita Ligore con Portofino. I giardini di Piazza Verdi ci spostiamo a Chiavari sono sempre chiusi nonostante l'intitolazione ad Elena Bono a dirlo al consigliere di minoranza Emilio Cervini. Con una delibera dallo scorso 7 aprile la giunta comunale di Chiavari ha intitolato i giardini di Piazza Verdi e la parte apponente di Villa Rocca ad Elena Bono. Giardino della poesia Elena Bono è la dicitura completa a dirlo il consigliere d'opposizione Emilio Cervini del gruppo Chiavari del Cuore il quale però si lamenta della chiusura dei giardini. Vennero chiusi nel 2012 perché mal frequentati e 4 anni dopo non sono ancora stati riaperti nonostante un anno fa, sempre Cervini, ricorda che l'amministrazione comunale avesse presentato un nuovo progetto di riqualificazione. Il cancello è chiuso con una catena e le attuali piante, aiuole e panchine sono in uno stato di degrado che grida vendetta da più di 3 anni afferma il consigliere il quale parla di ipocrisia in merito all'intitolazione. Non sarebbe stato meglio fare i primi lavori previsti per poterlo riaprire e poi fare l'intitolazione si domanda Cervini. Ben ritrovati per la seconda parte del nostro Tg Tguglia, adesso parliamo ancora della frana di Monteghiofo con Massimo Lago Massino, il posto si trova a Favale di Malvoro che ha intervistato gli abitanti della zona. Nella notte fra il 15 e il 16 marzo è venuta giù la frana, la brutta frana sulla strada comunale che porta a Monteghiofo, gli abitanti della frazione, visto l'entità del danno, pensavano di rischiare di rimanere sepolti vivi nella loro piccola frazione. Invece fortunatamente si sono attivati tutti, dal comune alla regione, tutti si sono dati da fare e entro un mese è stato ripristinato il traffico per arrivare a Monteghiofo. Nell'occasione i cittadini hanno voluto fare una cena di ringraziamento per ringraziare tutti quanti si sono adoperati affinché al più presto fosse ripristinato il traffico. Ne parliamo con Ornella Tassara, una donna che vive a Monteghiofo che era fra le più preoccupate di rimanere murata nella sua frana. Bravo, visto che io questa strada per i figli la percorro anche otto volte al giorno e visto l'entità eravamo veramente preoccupati. Abbiamo detto qua per tre, quattro mesi, sei. Io sono stata una di quelle che sono dovuta andarmene per un periodo. Fortunatamente avevo un'amica che mi ha ospitato a Stigaro, qua di sotto, e siamo stati venti giorni ospiti perché con gli orari dei miei figli tra scuola, mio marito a lavoro era impraticabile, non potevamo assolutamente stare qua e con la paura di non poter ritornare. Invece ringraziando veramente tutti sono stati fantastici perché anche chi è rimasto qua, le persone anziane sono state accudite, la protezione civile, la popolazione di Favale, non c'è stato fatto mancare di nulla veramente. E questo è il risultato di stasera che vogliamo festeggiare e ringraziare veramente tutti, tutti, tutti. Con Alessandro Ramon c'eravamo visti nei giorni della frana. Anche lui, come tutti gli altri abitanti di queste frazioncine, era preoccupato per quello che poteva succedere e per sapere quando la strada sarebbe stata riaperta. Adesso, dopo neanche un mese, siamo tutti qui per festeggiare la riapertura della strada che è avvenuta in tempi brevissimi. E siamo molto contenti grazie degli amministratori, della gente che abbiamo qui, tutto insieme, di Ezio, di tutti quanti, di sindaco e di gente che se non ti esce le mani che hanno detto una botta a fare tutto quello che doveva essere fatto. Senza pensare ai guadagni e senza niente. La cosa più importante è che l'unione fa la forza. Però mi dispiace tanto che aveva un amico che mi è morto, che io già... Gian Mangini era un ardesiaco che aveva seguito passo a passo i lavori che faceva Pezzolo e la ditta Pezzolo che purtroppo è mancato poche settimane fa. L'aggiunta comunale di Chiavari ha deciso di riproporre per quest'estate il cabaret di Piazza Gagliado, l'incantevole piazzetta dei pescatori. Due appuntamenti previsti, il 16 luglio e il 15 agosto. L'organizzazione è stata affidata all'associazione Moses Group di Spotono. Ancora non si conoscono i nomi dei comici che arriveranno comunque dalla trasmissione televisiva a Colorado. I due spettacoli costeranno alle casse comunali 16.500 euro. E adesso parliamo di Mare e Mosto. Domani e dopodomani due giornate dedicate al vino e all'olio a Sestre Levante. Domani, domenica 8 e dopo domani, lunedì 9 maggio, l'ex convento dell'annunziata di Sestre Levante ospiterà Mare e Mosto, vigne e sospese. Manifestazione dedicata al mondo del vino e all'olio ligure giunta alla sua seconda edizione. Parteciperanno oltre 70 produttori di vino liguri ed ospiti dal settore vinicolo o anche da altre regioni. Un'area sarà poi dedicata all'olio del Consorzio Olio Dopo Riviera Ligure. La giornata di domani sarà dedicata al grande pubblico con degustazione e assaggi di vini bianchi liguri nel pomeriggio di oli ed in serata con lavoratori dedicati al pesto. Il programma di lunedì sarà invece focalizzato su approfondimenti per addetti ai lavori con workshop tematici e tavole rotonde. In serata sarà proclamato il vincitore del concorso migliore sommelier della Liguria 2016. Organizza l'associazione italiana sommelier Liguria. I comuni di Rapallo e Santa Margherita Ligure insieme all'ente parco e all'area marina protetta di Portofino hanno approvato un protocollo d'intesa sul turismo comprensoriale ed in linea con quanto previsto nel documento le giunte dei due comuni hanno approvato anche un ulteriore raccordo che prevede la gestione coordinata dei rispettivi ufficiati in collaborazione con l'ente parco di Portofino. Adesso ci spostiamo a Lavagna perché ieri sera la Sala Rocca si è svolta alla rassegna Superare i Limiti. È un incontro organizzato dalle associazioni Virtus and Probitas e Stella Polare e ieri sera il protagonista era Niccolò Pagliettini che è intervenuto con musica e parole alla ricerca di un mondo migliore. Questa sera c'è una bella manifestazione alla Sala Rocca che ha per protagonista Niccolò Pagliettini, un ragazzo ipovedente e molto simpatico che il volto pubblico presente ha modo di apprezzare. Abbiamo organizzato questo incontro grazie al patrocinio del Comune di Lavagna, in particolare del consigliere delegato alla cultura Alex Scardavilli e della mia associazione Stella Polare e di un'altra associazione la Virtus et Probitas di Chiavari di cui è presidente Silvia Garibaldi. La rassegna si intitola Superare i Limiti. In effetti vogliamo dimostrare alle persone che ripeto sono a corse numerose questa sera che anche se su di noi gravano degli handicap pesanti si possono superare con la forza di volontà, con l'intelligenza e con l'impegno. La rassegna proseguirà poi in autunno con altri personaggi che veramente hanno dato prova di tutte queste qualità e soprattutto vogliamo anche incoraggiare i giovani. che un giorno ti senti come un sogno e poi ti ritrovi all'inferno e com'è straordinaria la vita che non si ferma mai, sì, non si ferma mai. Fino al 14 maggio presso la sede di Wailab a Chiavari in via Gagliardo, nell'edificio che ospitava il Liceo del Pino Classico, è possibile visitare la mostra di Monica Miceli o da Inginere di Tripoli, ma chiavalese da adozione, l'artista da anni trasforma ferri e rugginiti, copertoni, legni e pezzi di plastica raccolti sulla spiaggia di Chiavari in oggetti artistici. La mostra è aperta dalle 9 a mezzogiorno e mezzo e dalle 14.30. Alle 18.30 e adesso parliamo di solidarietà, c'è da fare solidarietà e raccogliere fondi per Nicolas che ha bisogno d'aiuto, è un bambino di 9 anni e trascorre buona parte della sua vita a Calvary con il papà anche se la mamma sta a Roma. Ma vediamo di capire perché bisogna aiutare Nicolas. Un sorriso per Nicolas, questo è il nome del gruppo aperto su Facebook per aiutare Nicolas, un bambino di 9 anni affetto da paralisi celebrale infantile con sindrome di West. Il bambino vive a Roma con la mamma ma tutti i mesi passa una decina di giorni con il padre che invece risiede a Calvary in Val Fontana Buona. Nicolas non è in grado di fare praticamente nulla da solo e ha bisogno di costante assistenze e di ausili che ovviamente sono costosi. Il prossimo 17 maggio sarà inoltre sottoposto ad un'operazione a Milano. Maggiori informazioni sono reperibili sulla pagina Facebook Un Sorriso per Nicolas e in sovraimpressione Liban per eventuali donazioni. E con questo servizio termine il nostro telegiornale. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Le informazioni di Entra TV tornerà lunedì. Previsioni per domani, domenica 8 maggio. Il tempo si mantiene in prevalenza soleggiato. Non mancheranno tuttavia locali addensamenti o passaggi nuvolosi, più consistenti nelle zone interne. Possibili deboli piovaschi nel pomeriggio. Umidità su valori medi. Venti in prevalenza deboli variabili, localmente da nord-est in mattinata e da sud nel pomeriggio. Mare in prevalenza poco mosso. Le temperature previste sulla costa tra 14 e 24 gradi. Nell'entoterra tra 7 e 24 gradi. Previsioni per lunedì 9 maggio. Il passaggio di una debole perturbazione in quota porta sulla nostra regione passaggi di bande nuvolose anche consistenti. Il cielo sarà tra irregolarmente nuvoloso e nuvoloso. Umidità su valori medi. Venti dai quadranti settentrionali in prevalenza deboli. Mare tra poco mosso e mosso. Le temperature previste sulla costa tra 15 e 22 gradi. Nell'entroterra tra 9 e 22 gradi.